Crecco oramai si è diventato un punto di riferimento del centrocampo del Pescara, hai sofferto un po' quest'anno però alla fine ti stai levando le giuste soddisfazioni? Sì, vabbè, sono partito comunque diciamo non titolare, adesso mi sono ritagliato il mio spazio, diciamo che l'ho vissuta sempre in modo positivo, non l'ho vissuta in modo negativo, ho solo sfruttato il mio momento, adesso comunque stiamo facendo bene tutta la squadra e sono contento di questo. Con il Cosenza è una partita delicata perché la squadra di Braglia sta vivendo un momento positivo al di là dei tre gol subiti alla fine con il Brescia. Sì, sì, non è una partita semplice perché comunque loro hanno fatto buone partite nelle ultime gare, non sarà facile perché comunque la partita dell'andata non è stata per niente facile, speriamo di rifarci perché la partita di Cittadella è andata male, abbiamo comunque messo da parte questa cosa e adesso siamo di nuovo pronti per far bene le prossime partite. Da un altro a proposito di partita dell'andata, il gol di Crecco e Braglia che continua a dire anche oggi la palla non era entrata. Sì, sì, era andata bene all'ultimo minuto, speriamo comunque di fare una bella partita perché ce lo meritiamo per tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, non dobbiamo mollare perché comunque mancano poche partite e se siamo lì vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto.